Io mi occupo, come dicevo prima, sono praticamente responsabile della sezione calcio in quanto questa è una polisportiva, quindi multisport si va dal podismo, si va al ciclismo, attività di yoga, ci sono tante tante iniziative e ogni sezione ha un responsabile. Io sono responsabile per quanto riguarda la sezione calcio e chiaramente noi la sezione calcio l'abbiamo suddivisa in tre macro aree che sono appunto la Lega Nazionale dei Lettanti, quindi Juniores e Prima Squadra, il settore giovanile con i giovanissimi e gli allievi e poi per quanto riguarda tutto il pacchetto scuola calcio. Queste tre aree hanno un responsabile che chiaramente sono un po' i miei fattori, sono le persone che mi confido e che ho più rapporti durante l'anno, sono Alessio Coppini per quanto riguarda la Lega Nazionale dei Lettanti, che è il nostro direttore sportivo, Matteo Pacini per quanto riguarda il settore giovanile e Mauro Di Bari per quanto riguarda invece la scuola calcio. Allora noi come tornei interni quest'anno abbiamo fatto diverse iniziative più che altro sulla scuola calcio. Sono finiti l'altra settimana, questa settimana va a finire l'ultimo torneo che è la categoria 2015, abbiamo fatto domenica un torneo che è la seconda edizione che facciamo, siamo a Spring Cup, quest'anno era riservata la categoria 2014, è stato un successone perché in soli due anni il torneo è arrivato ad avere una caratura direttora nazionale, quest'anno c'erano squadre anche di fuori regione, è stato un bel successo, tante squadre partecipanti, abbiamo avuto tra l'altro un ottimo piazzamento perché siamo arrivati terzi e inoltre ora appunto si sta svolgendo anche il torneo Bastiani che è intitolato al nostro ex presidente che è venuto a mancare qualche anno fa e siamo arrivati alle semifinali e noi siamo impegnati dentro con le semifinali. Abbiamo in questo periodo qui alcuni tornei di caratura veramente importante anche fuori, andiamo ora a fare il torneo nazionale con il 2012 a limite del Capraia, tra l'altro nel girone giocheremo contro la Juventus, siamo impegnati in altre categorie con due tornei a Genova, siamo stati ora di ritorno da pochi giorni con la categoria 2014 da Cervia, insomma cerchiamo di esportare il nostro stile, il nostro brand anche fuori. Per quanto riguarda il soggiorno estivo, noi abbiamo la fortuna che nella struttura interna della nostra viene organizzata ormai da tantissimi anni tramite il crawl dell'azienda Itachi Fan, è un soggiorno estivo che noi diamo il sostegno e la possibilità di fare calcio a bambini perché diamo i nostri istruttori, quindi la mattina verranno fatti all'interno di questo soggiorno estivo che non dà solamente calcio ma è un po' orientato su diversi sviluppi, sia didattici sia motori e questo ti ripeto, il calcio lì si vuol dare con impronta, con i nostri istruttori, la mattina partecipano già da qualche anno e viene fatto questo contratto di collaborazione che ci sta riscotendo tanto successo. Allora io qui sono da tre anni, in pratica da quando siamo partiti, tre anni fa, noi siamo partiti pressoché da zero, quindi insomma il mio ruolo è un ruolo importante, un ruolo di responsabilità, abbiamo portato insieme allo staff il progetto tecnico su cui lavorano tutti gli istruttori, un progetto tecnico che abbia l'obiettivo della crescita dei ragazzi, che lavori soprattutto su una linea comune, che abbia un percorso comune per tutti e quando si parla di percorso comune si parla di un percorso importante, tecnico e soprattutto cognitivo dove si vada a lavorare su una linea comune. Noi siamo un gruppo di istruttori giovani, si sono voluti scegliere accuratamente, proprio per cercare di dare un servizio importante e di creare un qualcosa di prestigioso. Io lo dico, noi qui siamo una famiglia, ma una famiglia che ha ambizione, che ha ambizione di crescita, che vuole portare ad avere la gioia nei bambini, nel lavorare con gioia, ma con tanto impegno per cercare di riuscire nell'impresa di dare un qualcosa in più a ragazzi, nel cercare di potergli dare la gioia nel giocare, ma con ambizione. Per questo abbiamo anche tornei importanti, cerchiamo di alzare l'asticella anche cercando di confrontarsi con realtà magari più grandi di noi e credo che la strada a percorsa sia difficile, ma siamo fiduciosi perché i numeri poi ci danno ragione, in tre anni siamo cresciuti tanto come numero di ragazzi, come famiglie ci danno fiducia e di questo siamo fieri. L'annata 2010 è un'altra delle annate particolari, proprio perché è partita da zero, si è creata praticamente da, non c'era qua la squadra, l'abbiamo creata da zero, portando negli anni sempre più ragazzi, oggi abbiamo più di 20 ragazzi, siamo riusciti anche, lo dico con orgoglio, a portare qualità e questo insomma sono contento grazie anche al lavoro nostro, più che altro di lavoro sul campo, di fiducia nel trasmettere ai ragazzi che qui c'è un ambiente dove si può lavorare bene, il 2010 è un gruppo di qualità, abbiamo fatto insomma il primo campionato tra virgolette con la classifica, anche se poi ci interessa il giusto, però insomma siamo praticamente su Pistoia, una delle migliori realtà, arrivando anche dietro a realtà importante come il Prato e riuscendo anche insomma a valorizzare dei ragazzi secondo me è stato un anno crescendo facile perché venendo da due anni campo piccolo a 5 ecco trovare già il campo grande con dimensioni un pochino più ragguardevoli e le porte un pochino più grandi c'è stato un primo momento naturale di ambientamento e poi ecco è stata una scoperta continua fino ad ottenere anche domenica un bel risultatino a punto di vista ecco non numerico anche se c'è stato quel riscontro lì però insomma anche tecnico diciamo. Si dà tanta importanza all'aspetto educativo rispetto dell'avversario, rispetto di tutti quelli che ci ospitano sui vari campi durante i campionatini, la condivisione, tutti questi momenti di confronto ecco noi si dà un grosso peso. In generale i tornei vengano sempre fatti per vedere sia con un gruppo un pochino più avanti un gruppo misto un gruppo un pochino più indietro sempre il grado di preparazione che tu hai ottenuto attraverso gli allenamenti quindi è un continuo confronto infatti io dico sempre ai bimbi che le garettine del torneo sono allenamenti ecco allenamenti si riprende tutti i gesti si dà un tema lo stesso anche se sono tornei però delle volte una piccola verifica è giusto anche farla per vedere che punto siamo e come continuare. Ma io guarda sono venuto qui all'Itaci un anno e mezzo fa e visto dal di fuori le società non si conoscano mai si conoscano soltanto quando siamo all'interno questa è una società fatta di gente a modo tranquilla che lavora solo ed esclusivamente per il bene per il bene dei ragazzi e dei bambini ma anche dei grandi perché riescano a stabilire dei rapporti interpersonali molto molto forti e quindi è una società nella quale si sta bene. È importante perché tanto è un punto di riferimento per le famiglie quando c'è un problema perché qui tutti gli interventi che facciamo sono a costo zero ci pensa tutta la società per cui per le famiglie è una cosa importante perché capisci poi specialmente per le categorie dei ragazzi che sono in crescita e hanno tanti problemini sullo sviluppo e compagnia bella essere seguiti costantemente è un motivo di insomma specialmente per le famiglie è un motivo di tranquillità ecco diciamo chiaramente siamo sempre in contatto con le famiglie quando c'è qualche qualche problema e condividiamo con loro tutto quello che si intende fare movimento in avanti siete appiccicati Arancioni Metti giù un po' e la buttiamo via calma Manu bravo bravo Genna vieni avanti vieni avanti te vieni avanti te uno contro uno Presidente della Polisportiva quindi oltre a Caccio abbiamo anche altre realtà tipo polismo tipo volley anche femminile è una società polisportiva che è nata nel 1997 come Breda perché ovviamente noi seguiamo un po' gli andamenti della fabbrica quindi se si chiama Breda è Breda ora è Itachi ci chiamiamo Itachi e niente che dire abbiamo come puoi vedere questo in questo ambiente è quasi tutto improntato sul calcio abbiamo tre campi di calcetto un campo sportivo a 11 e quindi ovvio che il 90% della nostra attività sia calcio ogni sezione ha un suo coordinatore che se ci coordiniamo ogni tanto normalmente mezzi in mente Mirko è quello responsabile della scuola calcio e che dire è una società che nel tempo ha avuto soli alti e bassi ovviamente però ora ci siamo diciamo dopo l'avvento della nuova struttura societaria ci siamo ripresse adesso siamo arrivati a 300 tesserati fra direttanti e direttanti al settore giovanile quindi siamo contenti perché diciamo che è una cosa che ci fa orgogliosi di quella che abbiamo creato perché era già grande come società poi ha avuto le sue alte basse e scuola calcio poi la felicità buona è stata anche quella della palla a volo che è avvenuta quest'anno abbiamo ripreso un settore che non avevamo quindi per noi anche lì si parla di 70 iscritti si parla di poca gente benvengano queste società che si uniscono a noi e siamo ben letti di accoglierli un altro anno faranno i loro campionati con la maglia con la maglia d'ecocolori sociale dell'Itaci quindi questo ci permette di spargere di più il nostro diciamo la nostra attività e sperando che ne arrivi anche altri la categoria 2014 sono un laureato scienze motorie e mi occupo principalmente della parte tecnica e motoria della mia categoria e occasionalmente aiuto anche le altre categorie dei più piccoli appunto principalmente per quello che riguarda l'aspetto motorio dei bambini quindi che non è per forza l'aspetto prettamente calcistico quanto tutto quello che riguarda la parte coordinativa e globale e segmentaria quindi legata appunto a tutto quello che è l'aspetto motorio generale quindi la corsa e tutto questo la parte motoria diciamo è la base su cui si costruisce tutto il lavoro tecnico di noi istruttori quindi avere una base motoria formata è fondamentale per avere un bambino che è formato anche poi a livello tecnico indipendentemente da quello che poi in realtà è lo sport bambino motoriamente coordinato motoriamente apposto è un bambino che si può che può giocare a calcio o un domani può che non giocare a calcio e essere appunto già pronto quindi bambini motoriamente coordinati sono bambini che magari ci possono arrivare anche da altri sport e noi in poco tempo riusciamo a lavorarli sull'aspetto calcistico quindi è importante per questo approcciare questo lavoro già da quando sono piccoli principalmente quando sono piccoli ecco essere un gruppo di allenatori giovani oltre a essere vicini proprio molto più vicini a livello generazionale ai bambini ci permette di essere più dinamici più attivi magari anche durante l'allenamento abbiamo siamo un gruppo anche molto affiatato di istruttori e per questo ci troviamo spesso magari a guardare una categoria o l'altra a darci una mano a darci consigli ecco non ci limitiamo spesso a quel lavorino di un'ora e mezzo la settimana ci piace magari trovarci anche fuori dal campo siamo un gruppo molto molto affiatato è fondamentale questo perché ci permette anche nel momento in cui io prendo un'altra categoria di conoscere già i bambini conoscere già il lavoro che è stato fatto dall'altro istruttore e ci permette anche spesso di comunicare molto tra di noi quindi al di là di tutto conosciamo magari anche dinamiche fuori dal campo che ci aiutano ad inserirsi nel gruppo gruppo bambini gruppo genitori che sono tutte cose fondamentali per condurre un'annata ecco diciamo che abbiamo strutturato sin dalla preparazione degli allenamenti piuttosto mirati molto anche sull'impegno della corsa dell'impegno atletico tanti esercizi quindi sia di corsa un po' anche vecchio stile diciamo così perché quello che c'era da mettere in campo erano 40 minuti per tempo quindi tanto fiato tanta corsa tanta preparazione anche a livello muscolare e atletico questo è stato importante e abbiamo avuto anche questi effetti diciamo così anche a fine stagione abbiamo visto che i ragazzi hanno tenuto un po' il pezzo sono andati avanti benissimo da questo punto di vista siamo contenti anche per questo fondamentale fondamentale l'approccio umano e io dico sempre diciamo è il primo anno che ho ripreso un po ad allenare ragazzi dopo esperienze varie negli ultimi anni con i grandi diciamo così però sono quelle esperienze che noi diamo qualcosa ma anche loro restituiscano tanto quello che abbiamo imparato in quest'anno c'è una necessità di ascoltare loro di vedere le esigenze che loro hanno in campo e anche fuori dal campo diciamoci la verità perché la crescita che abbiamo visto da settembre fino a fine maggio è stata veramente esponenziale per tanti di questi ragazzi quindi il calcio è importante e una palestra come lo sport di vita ma al tempo stesso hanno avuto una crescita esponenziale da questo punto di vista anche educativo vorrei anche sottolineare anche se magari è una nota di merito che abbiamo visto anche il discorso della Coppa Disciplina sembrerà banale ma in realtà non è banale per niente perché serve a stare in campo, aver rispetto degli avversari nonché dei propri compagni o di chi comunque come istruttore o meno li accompagna in ogni domenica, ogni sabato delle partite Il campionato è una cosa a lungo termine quindi sai c'è di mezzo le varie stagioni quindi è una cosa ben diversa il torneo è a breve termine quindi infatti noi in campionato siamo arrivati due posizioni sotto la metà quindi un campionato normalissimo nelle aspettative della squadra ecco per quanto riguarda tornei siamo a fare due tornei, uno a tavola e uno a Coiano a Coiano è un punto più impegnativo però siamo tutti e due in fasi finali a tavola abbiamo giovedì la semifinale e a Coiano dobbiamo fare venerdì una semifinale anche lì un girone a tre che sono chiamate semifinali però è un altro minicampionato ecco Io ho giocato nel diciamo nel calcio pristoese per tantissimi anni fino all'età di 39 anni poi avendo un bimbo che ha iniziato a giocare mi fu fatta questa proposta mi dodo dal Vannucci Piante e dal Paolo Bartolini di iniziare questa diciamo carriera di istruttore ho iniziato di lì e lì decisi di attaccare le scappette al chiodo da giocatore e ho iniziato a farla al distruttore e sinceramente mi sono divertito cioè mi piace molto ho a che fare con dei ragazzi che sinceramente come mi dicevano tutti bisogna saperci stare e secondo me ci sono stati bene ecco mi ci trovo a mio agio ho avuto in questi ultimi due anni anche richieste di fare l'allenatore in prima squadra e per ora non me la sento perché ho a che fare con gli uomini grandi ho paura di che ancora non sono pronto voglio ancora provare a stare con i ragazzi poi in futuro non si sa la cosa la differenza è che con i ragazzi ti stanno molto più a sentire e le cose che gli dici le apprendano subito e quindi tutta l'esperienza che ho cerco di metterla di trasmetterla a loro e per vedere di dare il meglio che ho per loro e se ci riesco bene se non ci riesco pace non è che ho ambizioni particolari ecco grazie 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 a tutti.